competenze per la finanza e l'economia locale un podcast della scuola ifel benvenuti in questa puntata del podcast competenze per la finanza e l'economia locale della scuola ifel sono grazia guermandi mi occupo della gestione delle iniziative del sistema di learning federato e dello sviluppo delle competenze digitali dei cittadini delle pubbliche amministrazioni in emilia romagna la percezione della formazione nel settore pubblico è notevolmente cambiata negli ultimi dieci anni si è passati dal considerarlo una spesa da ridurre ad una leva per rendere le organizzazioni più competenti e resilienti questo cambiamento culturale nasce in un contesto di forte attivazione delle organizzazioni pubbliche su impulso dei progetti del pnr della transizione digitale ed ecologica da realizzare in tempi brevi in questo scenario si sta abbandonando un modello di formazione verticale per lo sviluppo delle competenze legato ad una rigida suddivisione dei ruoli del lavoro per abbracciare un modello di formazione più circolare che favorisca l'acquisizione di maggiori responsabilità e il cambio di ruolo tramite apprendimenti più o meno strutturati la progettazione di percorsi sulle competenze trasversali e specialistiche è oggi il cuore della formazione nella pubblica amministrazione le parole chiave sono upskilling e reskilling ed esempi in questo senso possono essere la piattaforma syllabus che promuove l'acquisizione di competenze trasversali strutturate in framework condivisi le academy orientate alla formazione sulle competenze specialistiche e di alti profili della pubblica amministrazione in entrambi i casi si tratta di una formazione altamente codificata e strutturata alcun linguaggio ampiamente condiviso nella pubblica amministrazione l'estremo meno strutturato della formazione è caratterizzato invece da apprendimenti che avvengono in network o reti istituzionali professionali in cui le competenze nascono dalla discussione tra pari dalla collaborazione dalla coprogettazione dall'interazione e dalla risoluzione di problemi le reti costituiscono il substrato connettivo della pubblica amministrazione in cui è possibile attivare lo sviluppo di competenze ancora poco codificate anticipando quanto potrà essere poi organizzato in percorsi formativi strutturati un network per la formazione può essere considerato come un insieme di interazioni e connessioni tra i suoi partecipanti nell'ambito del quale è possibile facilitare un apprendimento mirato alla risoluzione di problemi complessi se l'offerta di corsi di formazioni trasversali o specialistici ormai matura lo sviluppo del network per la formazione è meno consolidato motivo per cui si sta facendo spesso riferimento a buone pratiche attivate da diverse amministrazioni la partecipazione a network strutturati può potenziare gli apprendimenti conseguiti in contesti diversi può attivare delle comunità di pratiche dare accesso ad un più ampio pool di conoscenze cosa possono fare le amministrazioni pubbliche per favorire la crescita di network per la formazione è necessario che i manager delle risorse umane dei dipendenti in primi si attribuiscono valore alle esperienze di networking investendo in questo parte del proprio tempo e assumendo un atteggiamento proattivo le amministrazioni che intendono avviare un'attività di networking per promuovere le competenze al proprio interno o all'esterno hanno molte opzioni per esempio possono curare lo sviluppo di una cultura dell'apprendimento che favorisca un atteggiamento proattivo rispetto alla partecipazione a corsi eventi community o network attivare network informali con le altre amministrazioni su temi di interesse comune incoraggiare il contatto diretto tra referenti di progetti e iniziative promuovere e coltivare comunità di pratiche condividere in rete il know how maturato anche con eventi di networking attivare forme di collaborazione o di peer review informali identificare e partecipare a network istituzionali rilevanti per la propria crescita professionale infine possono seguire linee guida internazionale per le attività di capacity building il punto più critico legato al tempo che i dipendenti pubblici possono realmente dedicare al networking con il rischio di escludere i più produttivi da queste opportunità un altro fattore critico la cultura dell'apprendimento ancora poca diffusa la partecipazione ad attività di networking difficilmente si traduce risultati immediati e rischia di essere considerata talvolta una perdita di tempo se non adeguatamente supportata dall'organizzazione la partecipazione percorsi formativi strutturati e l'adesione a network informali sono componenti significative dello sviluppo delle competenze dei dipendenti pubblici l'attivazione di network può essere favorita da iniziative a livello nazionale o regionale finalizzate coinvolgere un ampio numero di organizzazioni con l'obiettivo di sviluppare una cultura dell'apprendimento più ampia nella pubblica amministrazione può essere utile prevedere la redazione di linee guida per lo sviluppo di reti per la formazione e l'inserimento di iniziative di networking specifiche nei piani formativi delle organizzazioni pubbliche Grazie a tutti Grazie a tutti.